Viaggio avventuroso per un gruppo di turisti di ritorno da una domenica trascorsa le isole Tremiti. Il catamarano su cui viaggiavano lo zenith della Guidotti Ships all'improvviso è andato in avaria fermandosi in mezzo al mare dopo circa una mezz'ora di partenza dalle Diomedee. A bordo 64 persone che subito sono state fatte salire sopra il ponte e sono state assistite dall'equipaggio che ha fornito acqua e fatto indossare il giubbotto di salvataggio. Comprensibile agitazione tra i passeggeri che hanno visto uscire del fumo nero da una delle due sale macchine dove c'è stato un principio di incendio. Tempestivo è stato l'intervento del personale di bordo che ha provato a spegnere l'incendio. Allo stesso tempo ha contattato immediatamente la Capitaneria di Porto che ha organizzato i soccorsi. È stato disposto il dirottamento della Malfi Jet che si stava recando a Tremiti e che ha accolto a bordo i passeggeri dello zenith. Le operazioni di trasferimento dei turisti si sono svolte senza alcuna complicazione nella massima sicurezza. L'imbarcazione ha proseguito il suo viaggio verso le Diomedee ed è poi ripartita alla volta di Termoli dove intorno alle 21 sono sbarcati sani e salvi tutti i passeggeri. Per recuperare lo zenith è stato invece necessario l'intervento del rimorchiatore e poco prima della mezzanotte il catamarano della Guidotti Ships è rientrato in porto. Ad attenderlo i vigili del fuoco che hanno effettuato un primo controllo a bordo e un'ambulanza della Misericordia pronta ad assistere in caso di necessità le sei persone dell'equipaggio rimaste sullo zenith fino all'arrivo in porto.